Molecole estratte dalla popolare pianta gingoviloba hanno dimostrato avere diverse azioni di potenziale interesse medico, dalle attività antinfiammatorie a quelle antiossidanti fino a possibili proprietà antitumorali. Una di queste è la isoginchetina appartenente alla famiglia dei flavonoidi ed è stata studiata dal laboratorio di neuropatologia molecolare dell'unità di neuropatologia dell'IRX Neuromed di Pozzilli. I ricercatori che hanno pubblicato i loro risultati sulla rivista scientifica Molecules hanno testato la molecola su cellule di particolare tipo di tumore cerebrale, il glioblastoma, particolarmente aggressivo nonché il più diffuso. Chirurgia, chemioterapia e radioterapia sono le armi fondamentali a disposizione della medicina. Purtroppo quelle cellule sviluppano spesso una resistenza contro i farmaci. Per questo motivo si indagano potenziali terapie da associare a quelle standard con lo scopo di aumentare l'efficacia di queste ultime. Abbiamo trattato con isoginchetina, dice la dottorista Antonella Arcella, responsabile di questo studio, cellule di glioblastoma coltivate in laboratorio. Abbiamo così potuto vedere che la loro crescita veniva inibita mentre era ridotta anche la capacità di migrare, un fattore critico nella diffusione del tumore all'interno del cervello. Un'analisi più approfondita ci ha permesso di vedere che questi effetti positivi erano sostanzialmente dovuti alla riattivazione nelle cellule tumorali dei processi di apoptosi, la morte cellulare programmata e di autofagia. Gli standard terapeutici naturalmente restano il pilasto portante della lotta a questo tumore cerebrale. La isoginchetina potrebbe scendere al loro fianco per potenziarne l'azione. Naturalmente, dice ancora Arcella, ci vorranno ulteriori studi prima di un possibile impiego terapeutico. Il nostro prossimo passo sarà di verificare come si comportano le cellule tumorali sotto l'azione combinata della isoginchetina e della chemioterapia standard, in particolare il farmaco temozolomide, la principale arma contro il glioblastoma. Puntiamo ad un rafforzamento sinergico dell'azione antitumorale.